E dalle Ferrari al calcio con la Serie C, domani infatti allo stadio Adriatico Cornacchia, il Pescara affronterà in casa il Grosseto, fischio d'inizio alle ore 17.30, ma la partita sarà anche il debutto del neo allenatore Zauri. Proprio di questo vogliamo parlare con il nostro Massimo Profeta che è in collegamento, in diretta con noi da Pescara. Massimo, ecco ti buongiorno. Pensiamo che sia ancora in corso la conferenza di Zauri, è cominciata da poco, non so se hai già carpito qualche novità in vista del match di domani. Sì, grazie Anna, un saluto a te e tutti gli amici di Visione e Ascolto. Sì, è da poco conclusa, si è da poco conclusa la conferenza stampa di Zauri, o Zauri bis, potremmo definirlo così, a distanza di due anni, ricorderete tutti, il divorzio dopo la sconfitta interna con la Salernitana, 1 a 2 era il mese di gennaio. Dunque, Zauri è tornato molto carico, molto motivato. La prima domanda, tra poco lo ascolteremo, se è stata una rivincita il fatto che la società lo abbia richiamato, lo ha detto assolutamente no. Questa per me è una grande opportunità, è un'opportunità di rilancio, un onore allenare il Pescara, per me è come se fosse una seconda casa. E poi, naturalmente, la domanda, che era anche doverosa, senza fare polemiche, su quello che era successo due anni fa, proprio con alcuni senatori, Memusciai e Del Grosso, lui ha risposto le frizioni con Memusciai e Del Grosso, sono state superate, fanno parte del passato. Ma andiamo ad ascoltare i passi salienti della conferenza stampa di Luciano Zauri. Ricordiamo, domani Pescara-Grosseto, inizio ore 17.30. Vediamo, anzi sentiamo. Intanto permettetemi di spendere un pensiero per il mister Auteri, che insomma digerire un esonero non è mai roba semplice, quindi capisco la sua sensazione in questo momento e chiaramente mi dispiace. Detto questo, tocca a me e me la godo, se permettimi il termine. Volevo ringraziare il Presidente, il Direttore Matteassi, insomma per la grande occasione che mi è stata concessa. Rivincita assolutamente no, per Pescara per me è la seconda casa, per cui per me è una grande opportunità, è un grande onore, l'ho detto un tempo fa, due anni fa, lo ribadisco oggi. Per me stare qui è un sogno, quindi sono assolutamente felice di rivedere un sacco di facce, tra cui le vostre, con le quali magari col seno di poi anche io potevo fare meglio, quindi questo è un piccolo faccio ammenda di alcune situazioni mie, che non vuol dire avere un rapporto chissà che cosa, però volevo dire magari in alcune cose. Insomma l'esperienza sia nella vita, ma a questo punto anche nel calcio serve appunto a quello. No, ma adesso non voglio semplificare la cosa, ma credetemi che non c'è stato niente, nel senso che un allenatore fa delle scelte, il giocatore può ovviamente non accettarle, ci sono delle frizioni, ma è finita per quanto mi riguarda dopo due secondi. Dopo, è chiaro, i risultati non mi hanno accompagnato in quel frangente, ho fatto una scelta diversa, ma ti anticipo anche con Cristiano che oggi è il mio secondo. Credetemi che è più il vivere in quel momento, dove chiaramente non era semplice stare lì, ma attualmente le cose vanno splendidamente, quindi non vedo che sia domani la partita per ripartire. Insomma Massimo, questo è quello che ha detto in conferenza stampa l'allenatore Zauri, cos'altro possiamo aggiungere? Intanto vedo anche un ospite con te, quindi cosa aggiungiamo? Sì, intanto buongiorno. Intanto aggiungiamo, sì, intanto salutiamo il presidente Sebastiani, salve presidente. Buongiorno a voi. Ecco, volevo solo aggiungere, notizia importante, ma già si sapeva, il recupero di Drudi dopo tre partite. Drudi che ha deciso il match, l'ultimo successo in campionato del Pescara lo scorso 15 marzo con il Cesena. Non ci saranno Rauti e Memushai perché febbricitanti, fuori anche i Giannis che accusa un problema di natura muscolare. Il presidente conferma? Ma credo di sì, Milanes non si è allenato questa settimana e credo, mi dicono che Memushai è influenzato, speriamo nulla di più che di un'influenza di questo momento, ma credo che nei prossimi giorni rivedremo tutti, spero veramente tutti pronti. Come hai ritrovato Zauri? Ma Zauri è un ragazzo al quale io sono molto legato, quindi non è che l'ho ritrovato, ci sentiamo spesso, quando è a Pescara ci siamo anche visti, abbiamo fatto sport insieme. Non vi siete mai persi visti? Ma no. Con Auteri c'è stato un saluto? Permettimi di ringraziarlo il mister perché ha fatto secondo me il lavoro che gli era stato chiesto, secondo me lavorando anche in una situazione di difficoltà perché io ho sempre detto che se questa squadra avesse avuto gli attuali nell'organico già da luglio forse sarebbe andata in maniera diversa anche per il mister, quindi lo ringrazio per il lavoro che ha fatto ed è per me, con me è sempre stata una persona straordinaria, ho avuto modo questa mattina di scambiarci, di prendere un caffè insieme perché per me i rapporti vengono sempre prima di tutto il resto, poi nella vita, nel lavoro magari ci si separa, ci si lascia, ci si rincontra per cui assolutamente nessun problema col mister, anzi lo ringrazio per il lavoro fatto. A parte il campo, Presidente, le faccio l'ultima, siamo in diretta nel corso del Tg8, ecco la prossima settimana, la settimana comunque importante al di là, poi del campo perché si giocherà giovedì a Pistoia, ore 21, ricordiamo, il turno prepasquale, martedì, giovedì e venerdì tre udienze per il processo sulle plusvalenze. Sì, sì, noi siamo pronti, il nostro avvocato sta finendo di preparare le memorie, anche se ha avuto dei tempi molto brevi perché addirittura le udienze sono state accorciate rispetto al tempo minimo, però noi siamo molto tranquilli sull'argomento, lo eravamo anche quando ci avevano dato il comma 2, io l'ho sempre detto, perché la società ha operato nel senso giusto, poi è chiaro che le valutazioni dei giocatori, come ha sempre dichiarato anche il nostro Presidente federale, non sono semplici da attuare e molte volte magari si assistono a valori molto importanti per giocatori che hanno già dato e forse si fa poca attenzione ai giocatori che potrebbero dare, poi il tempo magari ci dà ragione o ci smentisce, sui giovani è facile, però porto un esempio per tutti, Brunori che è al centro anche della contestazione, oggi se uno apre i giornali è diventato il Presidente della Repubblica, quindi delle due l'una. 23 gol col Palermo. No, no, ma addirittura c'è un quotidiano che l'altro giorno l'ho dato come bomber della Juve, quindi credo che poi a quel punto i valori bisognerebbero rivederli un pochettino. Grazie Presidente, un piacere. L'ultima cosa, voglio fare un appello perché ho capito che negli ultimi tempi ti avevano rinchiuso perché non ti avevo più visto, quindi liberatelo perché ne abbiamo bisogno. Va bene, chiudiamo con questa battuta, Anna soltanto per dirti che Zauri cambierà il centrocampo, la posizione dei tre centrocampisti, Pontisso sarà il play con Pompetti e Derisio interni, davanti Clemenza e Dursi a supporto di Ferrari. E tutto dall'Adriatico Giovanni Cornacchia, un ringraziamento per il supporto tecnico, va naturalmente al nostro Diego Martelli, la linea può tornare a te.